LUNEDÌ DELLA DICIOTESIMA SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO DAL VANGELO SECONDO MATTEO Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, indisparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca, intanto, distava già molte miglia da terra, ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero, E' un fantasma, e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo, Coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro allora gli rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse, vieni. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque, e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì, e, cominciando ad affondare, gridò, Signore, salvami. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò, e gli disse, Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca, si prostrarono davanti a lui, dicendo, Davvero tu sei figlio di Dio? Compiuta la traversata, approdarono a Gennesaret. E la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati, e lo pregarono di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono, furono guariti. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi, Maria e Picoco Credo che anche noi avremmo avuto la stessa reazione dei discepoli nel Vangelo di oggi, vedendo ad un tratto Gesù camminare sulle acque. Sul finire della notte, egli andò verso di loro, camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero «E' un fantasma!» E gridarono dalla paura. Eppure erano nel bel mezzo di una tempesta, e la venuta di Gesù avrebbe dovuto rassicurarli. Come mai, invece, si spaventano? Mi piacerebbe usare questa immagine e questi stati d'animo per ricordare un po' a tutti noi il fatto che siamo più allenati ad avere a che fare con le tempeste che con la potenza di Dio. Il male ci stanca, il bene, invece, ci spaventa. E non è difficile accorgerci che questa cosa è vera. Infatti, non di rado, quando ci capitano delle cose belle o dei periodi sereni, subito nasce dentro di noi il dubbio che non sia del tutto vero quello che ci sta accadendo, e che, da un momento all'altro, scopriremo la batosta nascosta dietro quell'apparente bene. Appunto, trattiamo il bene come un fantasma. Invece di rassicurarci ci spaventa. Eppure, quel bene che il Vangelo di oggi ci dice essere Gesù stesso ci rassicura. Coraggio, sono io, non abbiate paura. Ma non è facile credergli. Pietro risca di affogare, perché non si fida fino in fondo. Ma è il bene a vincere, anche sulla nostra sfiducia o incredulità. Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quindi, coraggio!